Salve, salve, Reunosio! Salve, salve, Regi Nostro! Salve, salve, Regi Nostro! Abbiamo già commentato il Salmo 24 poche settimane fa, così per questa prima domenica di Quaresima preferisco commentarne un altro, il Salmo 91, che è particolarmente legato a questa ricorrenza. Lo troviamo infatti come antifona di ingresso, egli mi invocherà e io lo esaudirò e gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita. È l'antifona di ingresso della Messa che dovrebbe ispirare poi la scelta del canto iniziale e questa antifona riporta gli ultimi versetti del Salmo in cui è Dio stesso che conferma le parole del salmista. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio, mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Il Salmo dunque si apre con questo invito alla sicurezza e alla pace, un invito rivolto al pellegrino che è finalmente arrivato al Tempio di Gerusalemme e vi può trascorrere la notte all'interno, può trascorrere la notte all'ombra dell'Onnipotente perché lì è il suo rifugio sicuro. La presenza di Dio dà un senso di protezione come materna, c'è un'immagine della chioccia con i suoi pulcini, l'immagine che anche Gesù riprende nel Vangelo, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai il rifugio. Questo riferimento alle ali deriva sicuramente dall'arca dell'alleanza, il grande segno della presenza di Dio che era sormontata e protetta dalle statue di due cherubini con le ali dispiegate. C'è chi ha osservato che nei Salmi c'è sempre un nemico. Non esiste Salmo in cui non si faccia accenno ad un qualche pericolo, alle insidie di qualche oppositore palese o occulto. Il nostro Salmo cita le trappole dei cacciatori, le parole dei traditori, il terrore della notte, le frecce di giorno, lo sterminio delle tenebre, il distruttore del meriggio, le sventure, i flagelli, gli inciampi, i lacci dei cacciatori. Dietro a tutte queste immagini sono rappresentate sia le forze umane ma anche le forze demoniache. C'è una folta letteratura nel mondo medio orientale, nel mondo antico, spesso le forze sopranaturali e demoniache avevano proprio molti di questi nomi. Il nostro Salmo dunque ci assicura che Dio protegge i suoi fedeli, protegge i pellegrini che dimorano nella sua casa, li protegge contro ogni pericolo. Addirittura il Talmud ebraico definisce questo Salmo il cantico dei cattivi incontri. Perché da ogni cattivo incontro il Signore ci libera. Non dobbiamo però dimenticare quello che ci ricorda Sant'Agostino. Questo è anche il Salmo dal quale il diavolo prese lo spunto per tentare il nostro Signore Gesù Cristo. Ascoltiamolo, dice dunque Agostino, e lasciamoci istruire per essere in grado di resistere al tentatore, non fidandoci di noi stessi, ma di colui che fu tentato per primo, affinché noi non fossimo vinti dalla tentazione. Il diavolo cita infatti questo Salmo per spingere Gesù alla superstizione. È vero che Dio promette il suo aiuto, ma non perché tentiamo di manipolarlo con le nostre azioni assurde, come buttarsi giù dal pinnacolo del Tempio, ma perché lo adoriamo e compiamo sempre la sua volontà. Nel Dottor Zivago, dallo scrittore russo Pasternak, si legge che molti soldati russi tenevano il testo di questo Salmo cucito con un laccio attorno al collo ed è noto che ai tempi dell'Unione Sovietica molti prigionieri recitavano questo Salmo prima di essere sottoposti agli interrogatori. Ma la fede non è un talismano, è una promessa di protezione posta sulle labbra del salmista e poi di Dio stesso che alla fine conferma la sua protezione. Ma va sottolineato che c'è una condizione, quella di mettersi nelle mani del Signore. Dio protegge chi lo riconosce come suo rifugio, come suo salvatore. Noi preghiamo questo Salmo come cristiani. Lo recitiamo spesso anche nella compieta, la preghiera prima del riposo notturno. non sono più le ali del cherubino sopra l'arca dell'alleanza che ci proteggono, ma sono le braccia stese di Cristo crocifisso che ci ricordano in ogni istante che Dio è davvero sempre con noi, anche nei momenti più difficili della vita. Gesù stesso dirà ai Suoi discepoli che il veleno non farà loro danni. Non ci mettiamo per questo a bere la cicuta, ma abbiamo la certezza che tutte le nefandezze di questo mondo non ci possono separare dalla sua protezione e non possono portare la morte nel nostro cuore. Salve, salve, am digitaito radz cultivatee. Salve, salve, am digitaito radz scripture. Salve, salve, am Innanzitutto radz不了ato. Grazie a tutti.